E domani inizia il 2024 che è reddita proprio dal 2023 tante importanti innovazioni mediche e scoperte scientifiche anche nel campo dell'oculistica. Diamo il buongiorno al professor Andrea Cusumano, docente di oftalmologia all'Università Torbergata di Roma. Professore, gli studi sulla maculopatia sono andati così avanti che adesso è possibile fare diagnosi e terapia fino a qualche tempo fa impensabili. Insomma, prima di entrare nel dettaglio di tutte le novità, che cos'è la maculopatia? La maculopatia è una grave patologia retinica che interessa la macula, la parte centrale della retina e che è quella che è deputata la visione nitida a farci leggere, a riconoscere i volti, a permetterci di guidare e di avere una vita autonoma di qualità. Oggi parleremo in particolare della degenerazione maculare legata all'età. L'ambeggiazione maculare legata all'età riguarda in Italia circa 1.500.000 persone. Si distingue da una forma essudativa ed una forma atrofica. La forma atrofica riguarda circa l'85% dei pazienti e si caratterizza per una degenerazione progressiva che può portare alla perdita completa della visione centrale. La forma essudativa riguarda circa il 15% dei pazienti che ne soffrono e può essurdire in forma molto brusca. Ma per tutte e due oggi abbiamo delle terapie. Professore, diciamo che grazie a sofisticati strumenti diagnostici, e questo è davvero importante per chi ci segue a casa, sarà possibile intercettare proprio in maniera precoce la malattia. Come abbiamo messo a punto, in collaborazione con un gruppo italiano che lavora con un network scientifico con il Politecchio di Lausanna, una nuova strumentazione che ci permette di fare una diagnosi in vivo dei tessuti. Ci permette di vedere le cellule. Qui vediamo in queste immagini lo strumento, vediamo a sinistra l'epitore pentato retinico, i fotorescettori e le fibre nervose. Immaginiamoci che le immagini che abbiamo sono di circa 10 millesimi di millimetro. Questo ci permetterà di fare una diagnosi precoce anche con qualche anno di anticipo prima dei sintomi. Ci permetterà di poter monitorare le varie terapie che non esistevano prima ma che sono in divenire e quindi di avere una qualità diagnostica e terapeutica straordinaria. E questi risultati li dobbiamo alla stretta collaborazione proprio tra l'Italia e la Svizzera, come diceva, cioè il network di ricerca della Macula and Genoma Foundation che coordina e il Politecnico di Lausanna. Oltre all'aspetto diagnostico c'è quello però terapeutico, come veniva curata fino a poco tempo fa la degenerazione maculare nelle diverse forme. Per la forma atrofica i pazienti sanno che c'era di fatto soltanto l'utilizzo di integratori. Poi nel 2018 è stato pubblicato uno studio multicentrico molto importante che si chiama LED che ha dimostrato che in pazienti affetti dalla forma atrofica, pazienti però attentamente selezionati, siamo in grado con un laser a nanosecondi che emette una radiazione in miliardesimi di secondo di rallentare la patologia nelle fasi iniziali. Questo studio è stato poi convalidato da altri successivi studi e pubblicazioni, quindi abbiamo un rimedio terapeutico. E negli Stati Uniti è stato utilizzato un farmaco che addirittura si inietta nell'occhio. A che cosa serve? Dunque i pazienti che hanno la forma sudativa conoscono bene le iniezioni intravitrali per rallentarne la progressione. Ma dal febbraio 2023 è stato utilizzato dall'FTA, che è l'organismo che controlla i farmaci negli Stati Uniti, una nuova molecola che arriverà, pensiamo, in Italia e in Europa nel giugno-luglio 2024, ne seguirà una seconda che permette di rallentare la forma più avanzata, la cosiddetta atrofia geografica. Sono terapie dolorose? Non sono dolorose, sono famiglie iniettabili all'interno del vitro, il paziente non sente nulla, anestesia locale o eventualmente un po' di sedazione per i pazienti più ansiosi. Pensare oggi di avere sofferenza fisica o psicologica nel 2023 sarebbe una cattiva medicina. Abbiamo detto che ci sono vari tipi di maculopatia, ma quali sono i pazienti che possono sottoporsi a questi nuovi trattamenti? I pazienti per il laser e al nanosecondi, quelli che hanno le forme più precoci o intermedie, e per le forme più avanzate l'atrofia geografica oggi ha una possibilità di poter essere trattata. Quindi? Abbiamo speranze molto concrete, abbiamo anche però dei pazienti che hanno una forma terminale, per il quale oltre al laser, ecco, per la fase al nanosecondi, si interessa, viene utilizzata nelle forme più precoci, quando la forma è andata troppo avanti, allora dobbiamo considerare delle altre prospettive. E anche per questo l'Italia è avanti in questo momento per un progetto multicentrico europeo, per l'impianto di un microchip sottoritinico, per la forma terminale, la cosiddetta atrofia geografica. Cioè, come funziona esattamente? Lei mi parla di microchip collegato a un microcomputer tascabile. Vediamo delle immagini, esatto, i pazienti che hanno la forma terminale, questo paziente non aveva nemmeno la percezione della luce al centro, può utilizzare un impianto di un microchip di 2,2 mm, Tor Vergata ha creato un consorzio insieme all'ospedale britannico di Roma, 38 pazienti nell'ambito di uno studio internazionale, ne abbiamo impiantati 3, che sono 3 campioni italiani, i risultati dello studio preliminare hanno dimostrato che i pazienti potevano leggere numeri, lettere, parole e scannerizzando anche qualche piccola frase. E com'è andata? Sono andati molto bene lo studio preliminare, lo studio attuale è in fase di valutazione ad un anno dall'impianto, pensiamo che i nostri risultati saranno superiori e speriamo che nel giugno-luglio 2024 avremo una normativa CE che autorizzerà il trasferimento di questa tecnologia. I pazienti non rivedranno come una volta, ma avranno un aumento significativo della qualità di vita perché potranno riorientarsi nello spazio e potranno anche leggere con difficoltà numeri e lettere e parole. Quindi in sostanza queste nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche quando saranno disponibili in Italia? Alcune già lo sono, il laser che emette il laser freddo non termico esiste già da pericchi anni, il microchip retinico potrebbe diventare una realtà nella parte clinica, vediamo qui ad esempio 3 pazienti impiantati nello studio preliminare e speriamo che... Qual è la differenza fra... Vediamo che ci sono 3 microchippe, tutte e 3 pazienti, questo dello studio di fattibilità fatto in Francia, le azioni coinvolte sono Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Olanda e in più uno studio parallelo negli Stati Uniti. Una fantascienza di minuta realtà, ma i pazienti non devono avere aspettative al di là della realtà. Potranno riguadagnare una mobilità e avere un'assistenza concreta nella loro attività quotidiana. Insomma la ricerca scientifica va avanti, dove arriveremo? Il 2024 diventerà una realtà per molti pazienti e la parte della diagnostica cellulare cambierà secondo me il futuro dell'oftalmologia nei prossimi anni. Noi ce l'auguriamo davvero. Buon anno. Grazie dell'ospitalità. Grazie, grazie a professor Andrea Cusumano. Ancora buona domanda.